La Repubblica delle Biciclette Alcune regole fondamentali per imparare l'arte del bichet I giovani corridori devono considerare innanzitutto il momento della corsa in cui concedersi il bichet Evitare di arrivare a situazioni di emergenza negli ultimi chilometri Alea ragazzi, due chilometri! Dai Manuel facciamo il treno, ti tiriamo la volata, dai, dai, tini duro Cos'hai Manuel? Me la faccio addosso! Il vero ciclista professionista inoltre deve abbandonare ogni timidezza Disinteressandosi del bichet altrui Senza fare gli schizzi nosi Eseguendo il bichet senza scendere dalla bicicletta E' inoltre importante valutare le idoneità del tracciato E valutare anche le condizioni atmosferiche, soprattutto la direzione del vento Anche se queste valutazioni non dovranno in alcun modo pregiudicare la prestazione sportiva La Repubblica delle biciclette La Repubblica delle biciclette